Musica 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 E' arrivata una sconfitta 2-1 con l'Osonia Ma avete provato fino alla fine A fare lo scherzo quelle che sono diventate le campionesse in carica siete partite fortissimo, siete andati meritatamente in vantaggio, vi sono un po' tremate le gambe a voi, ma nel finale quasi quasi riuscivate a portare a casa il pari sì, è vero siamo partiti molto bene, le ragazze hanno dato tutto, sono molto soddisfatto di loro, però di fronte avevamo un avversario eccezionale e non a caso è arrivata prima nel nostro girone insomma mister, la salvezza è arrivata, avete fatto un buonissimo finale di campionato, sei soddisfatto per come è andata l'annata? sì, sì, decisamente abbiamo sofferto un attimino il cambio di categoria, arriviamo dalla categoria A, si è passati in eccellenza si è visto tutta questa differenza, però vorrei sembrare banale nel ripetere che le mie ragazze sono state veramente all'altezza, poi è vero non siamo abituati a giocare a certi tipi di incontri e il resto ha fatto la differenza per l'anno prossimo quale sarà l'obiettivo mister? Cercarei di migliorarsi o ancora una salvezza tranquilla? No, decisamente è stata la prima esperienza come società abbiamo già ampliato l'organico e stiamo già programmando la prossima stagione sicuramente per fare meglio questo decisamente perfetto mister, grazie mille complimenti per l'annata e arriviamo al prossimo ok, grazie